Nel decreto sostegni del governo Draghi, da 40 miliardi, un capitolo importante è dedicato anche al problema dei migranti. Draghi è dell'idea che bisogna ridistribuire i migranti tirando in causa anche l'Unione Europea. Bisogna distinguere due piani, nel senso che c'è una ridistribuzione europea su cui ovviamente siamo d'accordo e su cui il Premier Draghi vuole impegnarsi per far sì che il problema dell'immigrazione diventi un problema europeo. Siamo un po' perplessi dallo strumento che si vuole usare perché pensare che l'accordo di Malta, che è un accordo volontario, possa portare i paesi europei ad accogliere quote di migranti la vediamo molto difficile. Non ha funzionato il primo, difficilmente funzionerà il secondo in questa crisi economica e sanitaria. Altro tema invece è quello della distribuzione sul territorio nazionale. Questo non c'entra nulla a Draghi, questo è figlio della politica del governo Conte II che ha soppresso i due decreti Salvini e ha reintrodotto quello che noi abbiamo sempre chiamato il business dell'immigrazione. Cioè quel sistema di distribuzione capillare sui territori con gli appalti alle cooperative, i famosi 35 euro al giorno che di fatto dal nostro punto di vista sono un forte incentivo all'arrivo di nuovi migranti perché si garantisce anche a chi arriva in Italia senza titolo per starci, quindi senza la protezione internazionale di poter vivere a spese dello Stato e della collettività per anni in attesa di avere una sentenza che molto probabilmente poi sarà una sentenza che ne accerta la clandestinità. Ecco, quel sistema è un sistema che ovviamente noi non condividiamo, in Parlamento ci siamo posti con forza alla modifica dei decreti Salvini e quindi ora dove governa la Lega, cioè nei territori amministrati della Lega faremo tutto il possibile in base alla legge per evitare e impedire che nuovi migranti arrivino sul territorio.